Font Face Ninja, l'estensione per Chrome per scoprire tutto sui font, ovvero sui caratteri utilizzati nei siti web. E sì, perché voi magari state navigando e state guardando il sito web delle officine e dite, mamma mia, ma che bel sito internet questo officine.me! Ma quali caratteri avrà usato Andrea per realizzare questo sito internet? Beh, viene in nostro aiuto proprio Font Face Ninja. Se io vado su Font Face Punto Ninja e scendo un pochino verso il basso, a un certo punto troverò un pulsante Get It Now che mi porta sul Chrome Web Store all'estensione Font Face Ninja. La installo, cosa che io ho già fatto, ecco che la vedete qua nell'angolino in alto a destra, e a questo punto all'interno di qualsiasi sito web io posso cliccare sul mio bel ninja e lui, quando io mi sposto con il mouse sopra un font, mi darà tutte le informazioni su quel font, vedete? E quindi scopro che il buon Andrea Ciraulo, quando ha realizzato il suo meraviglioso sito, ha usato un font Rubik per i titoli e un font Open Sans per tutti gli altri testi. Una cosa interessante è che Font Face Ninja non mi dà le informazioni soltanto sul tipo di font utilizzato, ma mi dice qualcosa anche sulla dimensione del font, vedete quel numero 72 pixel, sull'altezza di interlinea, 86 pixel, e sulla larghezza del font, su quanta spaziatura c'è tra una lettera e l'altra. In questo caso non c'è alcuna spaziatura, siamo a 0 pixel. Così come mi dice il colore, in questo caso codice HTML FFFFF che vuol dire bianco, ma se io vado per esempio qua, ecco che ho un 343 A40, un altro colore, così come ho una diversa dimensione, una diversa altezza di linea. Ecco che io posso fare questa cosa su tutti i testi che trovo all'interno di un sito web. In questo caso, come potete vedere anche da questo riquadro, i font utilizzati nel sito delle officine sono soltanto due, Open Sans e Rubik. Vi faccio notare che i font gratuiti io posso già andarli a scaricare grazie a Font Face Ninja, oppure per quelli non gratuiti posso andare a cercare delle informazioni. Per esempio in questo caso lui mi va a cercare su Google le informazioni e guarda un po' che probabilmente l'ho già trovato anche gratuitamente. Eh sì, anche perché Rubik confermo che è un font gratuito. Io non ricordo dove l'ho trovato, forse addirittura proprio qui su Font Squirrel, non ne sono certo. Ultima cosa che vi voglio far notare di Font Face Ninja è che il buon Font Face Ninja ci prova anche con le immagini. se io clicco su un'immagine, per esempio facciamo questa di Passione Podcast, lui analizzerà l'immagine e proverà a indovinare il font utilizzato in quell'immagine. Vedete che qua fa tre tentativi, devo confessarvi che non ha indovinato nel caso dell'immagine di Passione Podcast perché non è nessuno di questi tre, ammetto di non ricordare il nome ma sono piuttosto certo che non sia uno di questi, però in alcuni casi invece è un pochino più abile e riesce a indovinare. Proviamo per esempio a vedere se indovina quello di fare smart. Eh beh, diciamo che ne prova degli altri, non ricordo assolutamente il nome del font giusto. Ecco, vediamo, lui dice che questo è il BF Tara. Non ricordo se è quello corretto, però mi fido di Font Face Ninja. Al di là delle immagini, per quanto riguarda tutti i test all'interno del sito web, decisamente affidabile, almeno secondo i mi test, almeno secondo le cose che ho provato. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi ricordo di venirmi a trovare sul canale Telegram, Chiocciolina Ciraolo, così come sul Patreon, officine.mesle slash upgrade. Vi ringrazio di cuore e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.